Non riesco a pensare a stomaco vuoto, ho bisogno di proteine, mangerò delle uova. Tutti possono essere comprati, non devo fare altro che scoprire quello che vuole e poi non dargliela. Hai preso una delle mie uova, apri la bocca. Queste uova non sono per te. Il ragazzo ha l'aquila e io voglio l'aquila. Il ragazzo non vuole darmi l'aquila. Se solo potessi scoprire il suo punto debole, allora riuscirei a farmi dire dove si trova l'aquila. Purtroppo c'è un problema che l'unico punto debole del ragazzo è proprio l'aquila. Forse se lo mettessi in un grosso formicaio gli si scioglierebbe la lingua e me lo direbbe! Ti ho presa con le mani nel sacco, mia cara! Con chi credi di avere a che fare, stupido animale? Le mie facoltà mentali sono almeno due volte le tue, cervello di gallina! Giovanna, ti do uova di ornitorinco, ti do uova di serpente. Beh, ti darò anche uova d'aquila, ma voglio che tu stia lontana dalle mie... Le uova dell'aquila! Tranquilla, ho tro...